Ecco Berardi che parte, colpo di testa ancora Ferrari, sempre con buona scelta di tempo Ancora Matuidi che rimane molto bravo in pressione, è ingenuo Marlon, Matuidi la rimette Di bala, sinistro, aggancia Mangio Kic, destro, si è salvato il Sassuolo Cancelo, lascia partire il cross del portoghese, palla che passa, rischio autogol Consigli miracolo sull'Irona che stava mettendo dentro la sua porta Dalla bandierina la Juventus, palla che passa, incredibile palla per Rete Cristiano Ronaldo, la prima volta in Italia di CR7 Tutto lo stadion in piedi Possibilità intanto per il Sassuolo che vuole subito reagire, tacco di Boateng Che stava per rispondere nel migliore dei modi a CR7 Raccoglie Douglas Costa, grande difesa del pallone, arriva Emre Can, attenzione di bala Lo scatto di Ronaldo dall'altra parte, Emre Can, cerca Ronaldo, che può far doppietta Ronaldo! Ha fatto doppietta! 2 a 0 per la Juve! 2 in un colpo solo per Cristiano Ronaldo! Ottimo pallone di Emre Can per Cancelo, Douglas Costa può puntare il suo avversario Si tratta di Rogerio, va fino in fondo! Douglas Costa! Ha sceso il motore, ha superato con una facilità Incredibile il suo connazionale Rogerio Sinistro al centro, Ronaldo! Se lo divora stavolta! Cancelo! Va via il portoghese, prova il destro! Consigli! Ronaldo! Accarezza l'esterno della rete Occhio al cross di Dell'Orco, Babacar! 2 a 1 al 91esimo, a due minuti e mezzo per sperare il Sassuolo Eh no! Douglas Costa ha sputato a Di Francesco Attenzione, barre! Espulso! No, spulso! Espulso! Vince la Juve nel giorno di Cristiano Ronaldo! Trova i primi due gol nel campionato